Ciao a tutti, sono WatRose e il primo martedì e il terzo martedì di ogni mese pubblicherò un video con le affermazioni che canalizzerò durante le mie meditazioni dedicate ai quattro elementi, che potete integrare nelle vostre meditazioni o altro. Dunque, iniziamo! Affermazione canalizzata per i segni d'aria, gemelli, bilancia e acquario. Nonostante tutto, so di non essere solo. So che l'universo si prende cura di me e quindi sono libero di sognare e sono libero di ambire a qualcosa di meglio, perché lo merito. Affermazione canalizzata per i segni d'acqua, cancro, scorpione e pesci. Trovo nuovi modi per portare alla luce il mio potenziale inespresso. Sono capace e forte. Posso affrontare tutto. Posso realizzare grandi cose e nulla può intaccare il mio desiderio di realizzazione. Affermazione canalizzata per i segni di fuoco, ariete, leone, sagittario. Mi accetto pienamente, abbracciando tutti i miei punti di forza e i miei punti deboli. Sono grato per il mio corpo, che tratto con amore e rispetto. Onoro i miei bisogni e i miei limiti. Affermazione canalizzata per i segni di terra, toro, vergine e capricorno. Accolgo le nuove sfide della vita con profonda fiducia. Imparo a trovare il valore nascosto in ogni esperienza. Non mi volto più indietro. Mi focalizzo sul presente e sono pronto a dare il meglio di me. Per oggi è tutto. A presto! Grazie. 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 Grazie.